Non capisco chi dice che stavo meglio prima ha scritto la 33enne ucraina Anastasia Pokryschuk a corredo dello scatto che la ritrae qualche anno fa. Anastasia Pokryschuk ha 33 anni. È ucraina e sul suo profilo Instagram si definisce una blogger. A catturare l'attenzione degli utenti è la sua immagine decisamente fuori dall'ordinario. Capelli fucsia e fisico prorompente. La donna non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per cambiare il suo aspetto che, intervento dopo intervento, ha portato ad un risultato di cui oggi si dice fiera. In particolare, è il volto a suscitare i maggiori commenti, modificato com'è per le labbra grandi e, soprattutto, per gli zigomi altrettanto enormi. Evidentemente stufa delle osservazioni sa l'esagerazione di una simile trasformazione. Anastasia nelle scorse ore ha pubblicato la foto di se stessa qualche anno fa, prima che la tendenza ai ritocchini diventasse tanto frequente. Onestamente, non capisco chi dice che stavo meglio prima ha scritto a corredo dell'immagine che mostra il suo primo piano quando ancora non aveva iniziato a sottoporsi a svariate operazioni. Iniziate quando aveva solo 26 anni. ed è venuto a sottoporsi a sottoporsi a svariate operazioni. Iniziate quando aveva Grazie a tutti.